Il gran premio si svolgerà quest'anno nel weekend a cavallo del primo maggio, quindi 1, 2 e 3 maggio. Principalmente la gara si svolgerà con un prologo in notturna la serata del pomeridiano del 2 maggio, con una sfilata delle auto in notturna e invece il 3 ci sarà il vero e proprio gran premio, quindi la gara intorno alla città vecchia con tutte le macchine nella mattinata del 3. Gli eventi sono tantissimi, abbiamo tanti eventi collaterali che anticiperanno il gran premio, tra cui mostre di arte, una nella galleria Forma 4 di Via al Giro, poi avremo una mostra di reperti storici e opere d'arte nella sala Murat e anche di veicoli particolari. Inoltre abbiamo un evento con un'agenzia di moda, Carmen Mantorana Eventi e tanti altri eventi collaterali, abbiamo già fatto una premiazione di una borsa di studio per la realizzazione di un manifesto sul gran premio, quindi spero di non aver dimenticato niente, il programma è molto denso e lo presenteremo adesso in conferenza stampa con tutte le date e gli orari precisi. si scioglano come portiglia, tutta la polvere spazzata via!